Questa è la cabina armadio prima questa è il dopo allora allora sì è vero almeno io la penso uguale a te magari siamo solo noi due a pensarla uguale secondo me non era così disastrata ecco prima di iniziare a sistemarla però dovete sapere che non aveva più un senso cioè ogni zona era messa alla rinfusa c'erano vestiti, su vestiti quindi volevo dare prima di tutto un senso soprattutto togliere tantissime cose perché era da due anni che non facevo decluttering e non toglievo cose che effettivamente non mettevo più da anni e soprattutto un'altra cosa non sapete tutte le cose che avevo non erano solo qui nella mia cabina armadio ma erano sparse un po' in tutta la casa quindi abbiamo cercato di riunire tutte le mie cose in questa stanza allora prima di tutto io avevo tutta questa parte qui della stanzetta jolly piena di camice, giacche che di là non mi ci stavano quindi abbiamo tolto tutto e siamo riusciti a metterle di là l'uniche cose che mi sono avanzate ecco perché non riesco a dargli ancora una collocazione aspetteremo la casa nuova per fare una zona sono queste giacche un po' più pesanti quelle sono da Serpella poi, altro traguardo per me importantissimo siamo riusciti a eliminare tutte le cose estive e non solo ma anche maglioncioni pesanti che erano contenuti in quei cassetti quindi abbiamo liberato tutti i cassetti che per il momento sono vuoti ma tanto si riempiranno a breve secondo me e abbiamo messo, abbiamo ovviamente selezionato le cose e abbiamo messo tutto nella cabina armadio per il momento che nulla non siamo riuscite purtroppo a trovare una posizione per tutte le mie giacche invernali perché sono molte quindi sono tante soprattutto troppo ingombranti e le abbiamo lasciate per il momento qui se vi ricordate però c'erano due relle di giacche quindi abbiamo selezionato tutte le giacche e sono riuscita a tenerne solo una e visto che poi andremo nella casa nuova l'anno prossimo le sposteremo da qui poi non sapevamo proprio dove mettere Gnomo soprattutto non sapevamo se tenerlo o darlo via e alla fine abbiamo cercato di tenerlo e non ci stava nella cabina armadio e non l'abbiamo lasciato qua ah un'altra cosa abbiamo svuotato pure tutti quei cassetti pure sta roba qui perché c'erano altre cose messe nello sgabuzzino quindi in definitiva abbiamo sistemato prima di tutto la parte delle borse io ne ho tolte la metà avevo borse vecchissime e qui ho messo quelle che uso maggiormente insomma le nuove e qui sono davvero super orgogliosa di questa parte delle giacche dei capi spalla tutti divisi per colore amo e qui sotto abbiamo messo tutte le camice ovviamente divise per fantasia e colori e qui le gonne più corte ok mentre da questo lato risulta la parte un po' più diciamo disordinata ma perché ci sono troppe fantasie quindi è impossibile tenere ordine abbiamo messo i pantaloni vabbè era già comunque lo spazio dei pantaloni quindi qui tutti i pantaloni mentre tutti i jeans qui e i leggings qui mentre qui abbiamo gonne lunghe abiti lunghi e tutti gli abiti ovviamente divisi anche questi per colore e per fantasia nell'angolo invece credo ci sia la zona più ordinata è difficile tenere ordinata questa zona quindi sopra abbiamo tutte le felpe e tutte le tute che userò appunto quest'estate sotto abbiamo tutti tutte le maglie i maglioncini leggeri di falconeri divisi ovviamente per colore da usare appunto questa primavera estate e qui tutte le le magliette ovviamente divise anche queste per colore sotto abbiamo tutti i maglioncioni invernali che ovviamente ora non verranno minimamente calcolati o usati poi abbiamo deciso di tenere alcune scatole perché io in una cabina armadio le scatole le amo e servono sempre infatti abbiamo messo una scatola con i costumi una scatola qui alcuni dei costumi ho scartato tanto in realtà perché quest'estate con la panza dovrò cambiare stile di bikini e costumi qui per esempio tutti gli accessori dei capelli qui abbiamo messo le cinture e sotto abbiamo messo altri maglioni che non ci stavano qua nei cassetti invece abbiamo messo tutte le tute da tenere invernali per il prossimo anno e qui invece abbiamo messo i leggings S taglia S che a me ora stanno piccolini che però continuerò ad usare probabilmente l'anno prossimo quando partorirò e dovrebbero arrivarmi i leggings un po' più grandi o da prima ma invece in quest'ultimo cassetto ho messo tutti gli shorts estivi tutti i mini crop top che ho sempre usato durante l'estate che ovviamente no non voglio disordinare niente che ovviamente ma quest'estate non potrò usare dove vado quest'estate con questo mini crop top quale non mi ci saranno neanche più le tette e poi vabbè di qua abbiamo ordinato un po' di cassetti qui ho messo tutte le canotte le maglie sportive di qui invece ho messo tutti i crop top sportivi che ovviamente non userò qui poi abbiamo tutta la maglieria quindi magliette aderenti body insomma tutta la maglieria qui per esempio mi hanno ordinato tutta la parte dell'intimo super abbiamo ordinato anche questa parte delle vetrine vabbè gli occhiali non li abbiamo toccati perché era abbastanza tutto ordinato qui tantissimo abbiamo anche fatto selezioni dei gioielli che ho messo tutti i nuovi gioielli delle collane di pandora per esempio non abbiamo toccato nemmeno la zona delle scarpe perché l'abbiamo sistemata insomma da poco e diciamo che è bella è bella così è sistemata così quindi siamo concentrate più sui vestiti mentre qui ci sono tutte le cose che ho scartato più altre due borse dell'ikea che sono già sotto e tutto questo pure la vera domanda che mi state facendo da ieri è Turi ma di tutti i vestiti i borsi i accessori insomma cose che scarti cosa ne fai cioè che fine fanno bene vi avevo già accennato forse gli scorsi anni come mi comportavo con le cose appunto che scarto ogni anno insomma vi dico la verità non sono non mi piace l'idea di vendere le mie cose vecchie vendere le cose che ho comprato gli anni scorsi l'abbigliamento che ho scelto con delle collaborazioni o quello che mi è stato regalato quindi non ho mai venduto il mio abbigliamento o i miei accessori so che l'idea vi potrebbe piacere perché mi scrivete tu rivendili che noi li compriamo ma non 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 mi piace l'idea anche perché in questi anni anche se io non vi ho mai detto niente ad alcuni di voi sono arrivati dei picchi di cose mie ma non l'ho mai diciamo così pubblicitato pubblicitato insomma qui ma alcuni di voi hanno già ricevuto cose mie continuerò comunque a farlo non posso fare giveaway non posso fare concorsi perché purtroppo la legge non lo permette quindi non posso fare una cosa del genere ma io scelgo delle persone in privato a cui mandare un po' di cose voi siete sempre super felici detto questo cosa ne faccio appunto di quello delle cose che scarto elimino che mi rimangono sicuramente c'è mia mamma c'è la fidanzata di mio fratello ci sono le mie amiche che non vedono l'ora di vedere cosa possono indossare ci sono tutti i cugini le fidanzate dei cugini di Ricky le zie di Ricky la mamma di Ricky ci sono le mie vicine di casa che sono tre ragazze adolescenti che sono felicissime quando ricevono le mie cose e ci sono anche i pacchi che vanno a delle associazioni quindi di beneficenza le persone meno fortunate le donne mamme ragazze meno fortunate di me il che l'escrizio è che è il è il il il